Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Alexa accendi pioggia Alexa accendi discoteca Alexa accendi Alexa accendi sciuma Alexa accendi sciuma Alexa accendi Alexa accendi én Si può correre quando si vuole! È divertente! Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì.